Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Ed ecco a voi un'altra piccola lezione, un'altra piccola pillola ispirata un po' ai video di Tom Quail e Rick Graham sul legato e soprattutto nel rinforzare questo dito sia nella precisione e sia proprio nell'efficacia per la produzione delle note durante il cambio corda. Allora, l'esercizio prevede anche l'utilizzo della pettrata ibrida, quindi utilizzeremo plettro e dito medio. Possiamo il La maggiore, quindi nel quinto tasto e siamo esattamente in questo pattern. Va bene? Ecco qui, iniziamo lentamente. Ok, ora andiamo un attimino più veloce. Ecco qui. Allora, dobbiamo stare attenti, soprattutto nelle ultime due sequenze dove abbiamo uno string skipping molto largo. All'inizio è abbastanza facile. Ok, come vedete abbiamo la pettrata ibrida sul cambio corda. e poi qui dobbiamo stare molto molto attenti anche all'estensione che c'è tra mignolo e indice. Quindi mi raccomando, sfruttate l'impostazione corretta della mano e soprattutto non vi fate prendere dalla fretta perché questo è un esercizio che va fatto inizialmente molto lento proprio per sviluppare una precisione tra tra queste due dita. C'è un cambio abbastanza meschino. Ok? Spero vi piaccia. Per le tab cliccate in descrizione e, mi raccomando, andate piano e poi accelerate. Ciao a tutti!